L'annuncio di Diablo Immortal al BlitzCon di due anni fa non è stato preso bene dai fan. Eppure la versione mobile del noto franchise Blizzard aveva già dimostrato ottime potenzialità, che sono state tutte confermate anche dalle prime ore di gioco effettivo con l'alpha chiusa. Ci troviamo al cospetto di quello stesso Diablo che tutti conosciamo e che abbiamo amato fino ad oggi, sebbene ci siano delle semplificazioni difficili da digerire per i fan più accaniti. L'atmosfera è quella tipica del brand, e Diablo Immortal sfrutta le tonalità delle tinte dark per portare il giocatore a sentirsi avvolto da un universo che conosce alla perfezione. La storia si pone tra Diablo 2 The Lord of Destruction e Diablo 3. La Whirlstone è ormai in frantumi, demoni di ogni tipo sono sparsi alla ricerca dei frammenti e i Nephilim gli devono dare la caccia. Una premessa interessante che non stravolge il lore per come lo conosciamo, andando invece ad arricchirlo di nuovi dettagli. Fa piacere riscoprire volti noti della saga, mentre già dalle primissime ore ci si rende conto di avere tra le mani un vero e proprio nuovo Diablo. Le classi disponibili per questa alfa tecnica sono quattro, ovvero Barbaro, Mago, Monaco e Demon Hunter. L'editor permette di scegliere l'aspetto estetico del personaggio, oltre che il sesso, tramite un paio di preset che dovrebbero aumentare con i prossimi aggiornamenti. L'avventura inizia nelle Westmarch e si snoda attraverso la costa occidentale di Sanctuary, ma andrà a toccare anche Darkwood e Wartam, ambientazioni che i giocatori di Diablo dovrebbero ricordare bene, così come tantissimi altri luoghi iconici. In mezzo a tutto questo fanservice ogni regione viene gestita come un'area open world, dove si può farmare in compagnia di altri giocatori sfruttando il continuo respawn dei mob. Al momento tuttavia la componente social è difficile da valutare, visto il basso numero di utenti che hanno accesso all'Alpha. Il sistema di combattimento è tanto soddisfacente quanto bello da vedere. All'ottima qualità grafica si affianca infatti una fisica dei colpi che trasuda spettacolarità ad ogni impatto. Nemici che volano, schegge di monumenti, alberi in frantumi ed effetti particellari in ogni dove riempiono lo schermo completamente. Lo schema di controllo è stato adattato al doppio stick analogico virtuale e sono solo quattro le abilità attive presenti a schermo, correlate ai cooldown senza una vera e propria risorsa principale da spendere. Queste vanno alternate furiosamente agli autoattacchi, con un compromesso che toglie profondità al sistema, ma che si rivela necessario, visto lo spazio ridotto per l'interfaccia. Anche le personalizzazioni delle skill sono completamente sparite, sostituite da un sistema di migliorie legate al livello del giocatore. La personalizzazione dell'equipaggiamento del Nephilim non è al massimo delle sue capacità, soprattutto per l'imposizione di utilizzare una tipologia di arma ben definita. Si sacrifica così parte dell'anima RPG di Diablo per concentrarsi sull'aspetto più action. Al fianco di un gameplay alleggerito c'è però una sanctuary pomposa ben congegnata e in grado di rapire per ore e ore di puro svago. Oltre alla ovvia storyline da seguire per tutta la fase di leveling, Diablo Immortal inserisce diverse attività collaterali molto importanti nell'endgame. Turna anche una versione rivisitata dei rift di Diablo 3, con una modalità speciale dove competere contro altri giocatori per scalare le classifiche, mentre si annientano i nemici sui piani e si ottengono ricompense via via più importanti. Ci sono dungeon con difficoltà selezionabile, pensati per poter essere affrontati sia da soli sia con un party fino a quattro giocatori, in modo che la sfida si adatti al loro numero, e poi le bounty, missioni a tempo contro i boss, achievement per l'esplorazione, bestiari per collezionare informazioni sui mostri, quest stagionali e un battle pass legato al completamento di tutte queste attività settimanali, inedito per la serie. Insomma, tante cose da fare già in questa alfa, con un carico ulteriore in arrivo nei prossimi mesi che saprà tenere impegnati fino al lancio. Diablo Immortal è un capitolo mobile molto promettente, con semplificazioni nel gameplay, ma anche tante aggiunte a livello contenutistico. Un prodotto fresco e divertente, capace di tenerci attaccati per ore non solo per la sua incredibile immediatezza, ma anche per un'atmosfera convincente e un sistema di progressione super gustoso. Voi cosa ne pensate? Vi siete ricreduti su questo progetto mobile di Blizzard? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. in questo video.